E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie abbonati al canale. Buona visione! Questi sono i sette principi su cui si basa tutta la filosofia ermetica. Sesto, il principio di causa ed effetto. Settimo, il principio del genere. Ve ne diamo per ora solo alcuni cenni, ripromettendoci di spiegarli più esaurientemente nel corso di queste lezioni.